Anzitutto a me sembra che questo libro sia significativo e molto apprezzabile a livelli diversi. Il primo è quello del contributo agli studi su Sant'Ommaso. Ci sono lavori che hanno messo in luce l'attualità e l'importanza del concetto di giustizia, altri lavori anche se minori di numero sulla pace. Questo ha la capacità di mettere in luce la relazione intrinseca che c'è tra giustizia e pace nel pensiero di Sant'Ommaso e questo è certamente un contributo importante per gli studi tomisti. Un secondo livello è quello di poter confrontare su alcuni tomisti contemporanei le interpretazioni dell'Aquinate e l'utilità del dialogo all'interno della tradizione tomista. Anche questo è apprezzabile perché è estremamente importante delineare una storia del contributo di Tommaso nelle varie epoche e anche in riferimento alla situazione contemporanea. Terzo elemento è valorizzare Sant'Ommaso nella sua capacità di fornire dei principi fondamentali per affrontare le sfide che stiamo attraversando e che le situazioni di emergenza dalla crisi economica, socio-sanitaria e finanziaria, ma anche le grandi questioni per esempio del rapporto tra virtuale e umano, la questione del transumanesimo, la questione dei diritti, anche dell'ampliamento di questo elenco di diritti particolari che poi fa fatica a ricongiungersi con una nozione di giustizia e di diritto in cui c'è una corrispondenza tra diritti e doveri, in cui la dignità umana è garantita, in cui c'è la finalizzazione rispetto al bene comune, che sono temi indispensabili nel pensiero di Sant'Ommaso. Ecco allora come l'Aquinate è estremamente anche pungente, significativo su questi temi qui e offre delle chiavi di lettura estremamente importanti. Quindi io trovo la significatività di questo volume a almeno questi tre livelli. E poi certamente in un momento in cui ci interroghiamo sul futuro che vogliamo preparare per le nuove generazioni, in cui Papa Francesco attraverso la fratellanza umana universale, ma anche il patto educativo ci spinge a guardare a come vogliamo organizzare la società perché sia sempre più umana e umanizzante. Una riflessione sulla giustizia e sulla pace, soprattutto interessante, questo libro mette in luce la ricchezza, direi quasi il riferimento biblico allo shalom, con il senso della piena armonia con se stessi, con gli altri e con Dio, la ricchezza proprio della concezione, si potrebbe dire inclusiva, integrale di Tommaso rispetto al tema della concordia e della pace. Per cui l'effetto di questo libro, che invito ovviamente a leggere, ad approfondire, è quello di far sentire che tutti, anche nella concretezza della nostra vita quotidiana, la nostra professionalità, ha il nostro impegno, le nostre relazioni dalla vita familiare alla vita sociale, siamo chiamati ad essere costruttori, dobbiamo fare la nostra parte per costruire un'umanità più pacifica e più giusta. Detto fra noi mi fa anche piacere che quando ho iniziato questo lavoro, che ho avuto anche la gioia di seguire, sono contento che abbia raggiunto davvero questi frutti apprezzabili. Il di Castero in cui c'era una collaborazione specifica era il di Castero della giustizia e della pace, proprio i temi di questo volume. E anche la concezione del servizio allo sviluppo umano integrale, anche nella stessa denominazione, in qualche modo accompagna come in filigrana trasversalmente anche lo sviluppo di questo lavoro. E quindi mi fa piacere, come prima ero contento che fosse nato anche il progetto all'interno di una riflessione di un contributo, che è quello della Chiesa, così importante sulla giustizia e la pace, in qualche modo adesso viene consegnato nella prospettiva di anche un libro diventa un servizio allo sviluppo umano integrale e quindi auguro ogni bene all'autore e a questa pubblicazione. Grazie. 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 Grazie.